3.388, 2.389, 2.390, pagina 622, sono i successivi. Dichiaro aperta la votazione, valere contrario, relatore e governo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Quindi 2.391, si vota la prima parte fino a 250, se respinta e precluso il successivo 2.392. Dichiaro aperta la votazione, valere contrario, relatore e governo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.393, si vota la prima parte fino a 254, se respinta e precluso il successivo 2.394. Dichiaro aperta la votazione, valere contrario, relatore e governo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.395, dichiaro aperta la votazione, valere contrario, relatore e governo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.396, si vota la prima parte fino a 254, se respinta e precluso il successivo 2.395.